Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni, uomo dell'anno, non piace neanche al centro-destra. Eh già, sì. Libero tira fuori una trovata di marketing commerciale per farsi notare di più e tira fuori il titolo Giorgia Meloni, uomo dell'anno. Lo fa per far parlare di sé. Eh, Libero Quotidiano è un'azienda commerciale privata dove il suo fine è l'utile da distribuire agli azionisti e pertanto ha tutto il diritto di farsi pubblicità, di farsi notare il più possibile. Fa parte proprio delle attività commerciali. Solo che ha utilizzato la Meloni per farsi pubblicità facendo una finta provocazione. Eh, abbiamo messo Meloni, uomo dell'anno, proprio per far abboccare i polli di sinistra che poi hanno abboccato, Schlein, Landini, tutti hanno abboccato a questa goliardata tirando fuori teorie. Ah, la Meloni, uomo per il patriarcato, tutte queste cose qua. Quindi Libero studia un'operazione di marketing e di pubblicità facendo un titolo così, cercando di provocare la reazione della sinistra per aumentare la pubblicità e così è stato. perché la sinistra ha cominciato a sbraitare senza capire minimamente che si trattava di un giornale che si faceva pubblicità. Però, questo utilizzo di Giorgia Meloni da parte di Libero non è piaciuto. Non è piaciuto al centrodestra. Molti hanno detto, ma che vuol dire? Stai utilizzando il capo del governo per farti pubblicità? Ecco, anche a me non è piaciuto, ma a tanti di voi non è piaciuto. Dice, ma che livello siamo arrivati? Dai, ma su, un po' di serietà. Naturalmente mi si notava di più se scrivevo Meloni, donna dell'anno o mi si notava di più se scrivevo Meloni, uomo dell'anno? Ovviamente il titolo Meloni, uomo dell'anno fa più effetto che Meloni, donna dell'anno. Giusto? E così si fanno le scelte commerciali. Il titolo che serve a vendere. Pertanto anche altri giornali di centrodestra sono rimasti abbastanza basiti, per esempio ad manifestare un aperto di senso ad esempio il secolo d'Italia. Ecco, Libero, noto per il suo... orientamento conservatore, ha fatto questa cosa qua commerciale e la posizione del secolo d'Italia, giornale affiliato al partito Alleanza Nazionale, che ha espresso, che era comunque adesso Alleanza Nazionale, non esiste più, però sapete che Alleanza Nazionale alla fine è dentro Fratelli d'Italia. Quindi il secolo d'Italia, che probabilmente è il giornale più filogovernativo, dice un po' di cattivo gusto e apertamente esprime il proprio dissenso. E così, nella campagna elettorale, vi faccio un esempio, del 1999, Emma Bonino scriveva «Voglio ringraziare Roberto Saviano per le belle parole a me riservate nel suo post. Non è più il mio momento, ma mi auguro che un giorno, magari già da ora, una persona competente e se donna, anche meglio, venga eletta Presidente della Repubblica». e Emma Bonino, nel suo post, nella campagna del 1999, c'era la foto di Emma Bonino con scritto «Emma, finalmente l'uomo giusto». E' 1999, siamo nel pieno ancora dell'Italia senza il politicamente corretto, dove la donna politica veniva accostata all'uomo, finalmente l'uomo giusto, cioè la donna, Emma Bonino politica, per essere consacrata come un vero politico bisognava dire che era diventata l'uomo giusto. Quindi se non eri accostata all'uomo non potevi essere quella giusta, dovevi essere l'uomo giusto. Ecco, qui siamo nella campagna elettorale del 1999, ancora negli anni 90, dove nessuno si sarebbe sognato ai tempi di criticare un post del genere. Quindi addirittura Emma Bonino ringraziava, è lei stessa, è la stessa Emma Bonino che ha pubblicizzato il post mettendosi lei la fotografia che ho scritto «Finalmente l'uomo giusto». Cioè lei stessa si gasava perché l'avevano definita finalmente l'uomo giusto. Eh, lo so, erano altri tempi. Erano altri tempi. Quindi il direttore di Libero parla di questo precedente, vabbè, poi Libero dopo la cosa commerciale hanno sostenuto il punto dicendo «L'abbiamo scritto per questo, per quell'altro». «E cosa dice Emma Bonino qua nel 1999?» Quindi Libero ha fatto la sua diciamo la sua pubblicità e poi nei giorni successivi ha mantenuto la posizione continuando a fare pubblicità per il suo giornale. Bene. Naturalmente poi il giorno successivo hanno detto «Beh, ma noi l'abbiamo fatto in maniera ironica, non avete neanche capito che era una cosa ironica?» insomma, non era una cosa ironica, era pubblicità. Dai, non raccontiamoci le storie di Babbo Natale. Però quello di Emma Bonino, l'uomo giusto, fa riflettere. E le critiche dal secolo d'Italia dicono che la scelta di Libero non è stata compresa né accettata dalla redizione, in particolare si evidenzia come la risposta alla critica della sinistra che aveva associato Meloni al patriarcato avrebbe dovuto sottolineare l'identità femminile della premier anziché oscurarla. Quindi il secolo d'Italia dice «Voi per farvi pubblicità state rimarcando quello che la sinistra dice, che la Meloni vuole essere definita un uomo perché l'uomo è quello che comanda, è il patriarca». Quindi per farvi il secolo d'Italia in sostanza dice «Per farvi pubblicità state danneggiando l'immagine della Meloni facendola sembrare tutt'altro di quella che lei vuole essere, pertanto è tutto abbastanza chiaro». Bene, doveva Libero ovviamente sottolineare che la Meloni è donna però non era pubblicità quella se Libero avesse fatto il titolo Meloni donna dell'anno non se lo sarebbero calcolato nessuno invece così è una bella pubblicità capite che non stiamo parlando di provocazioni o di altro stiamo parlando di pubblicità di marketing marketing grazie a tutti e arrivederci a presto